Ebbene sì figliolo, questo video potrebbe essere per te. Per te che osservi un bruco diventare crisalide e poi ammiri la crisalide rinascere in farfalla. Per te che non dai mai nulla per scontato e ami riflettere sul perché di ogni cosa. Per te che rifletti con raziocini o su concetti come bene e male. Ma anche per te che sei disposto ad imparare cose nuove senza volere facili soluzioni. Per te che non credi ai corsi di difesa personale in una settimana sperando di diventare brusolino un quarto d'ora perché sai bene quanto sia necessario il sacrificio per ogni risultato. Per te che non hai paura della complessità del mondo, non ne sei ossessionato ma anzi ne sei affascinato e vuoi vivere fino in fondo. Questo è un video sul mondo orientale, sulla loro scrittura, i loro giochi di parole, sulla complessità della loro cultura. Ed è un video sulla sottile differenza fra reincarnazione e rinascita. Perché vedi, non basta dire io non morirò per fare il figo. Ma potresti anche intendere che forse non sei ancora pronto per morire. Questo video è per te che hai trovato del tempo da perdere. Di certo questo video è per gente un po' matta. Perché questo è il numero 43. E non chiedere ma 43 cosa? Questo è l'OPWi numero 43. E se sei finito qui, mo so cazzi tua. Sigla. Salve a tutti, buongiorno e benvenuti sull'Orbrica, uno pezzo di Strike Channel. Vi ricordate quel famoso video su Kai Dio dove avevo disegnato i kanji caratteri cinesi, giapponesi o anche quell'altro sui Gorosei con alcuni kanji. Ecco questo è diecimila volte peggio. Cioè qui dobbiamo andare proprio a veramente a spulciare nei meandri della scrittura cinese e giapponese. Quindi dei kanji, dei caratteri, degli ideogrammi. E non solo. Però per iniziare, come a me piace spesso fare quando studio le lingue straniere, è pensare che anche noi italiani, magari a volte senza accorgercene, ma facciamo le stesse cose. Sarà un video molto sui giochi linguistici, perché In-sama principalmente è un gioco linguistico che però ovviamente ci porterà a Buddha e ci porterà a fare ovviamente delle belle teorie e come dicevo nell'introduzione a parlare un attimo della differenza tra reincarnazione e rinascita che sono due cose ben diverse e ovviamente con dei riferimenti particolari. Già nell'introduzione avete sentito la farfalla, la crisale del bruco e un po' di riferimento mi pare che ci sia stato nel manga. Adesso arriviamo a questo però. Leggete un attimo qui. It's 4 you. U2. Verità supposte. Mi sembra ovvio che sappiate come leggerla, no? Il 4 in inglese si pronuncia for e quindi diventa it's for you. You too sarebbe anche tu. Verità supposte è un gioco di parole, a parte quella canzone di Caparezza, perché supposte è il participo passato del verbo supporre, verità supposte è un'idea che la supposta va inserita nell'ano e quindi è una verità che probabilmente può far bruciare in quel particolare punto ma al tempo stesso significa soltanto una verità che è stata supposta, cioè soltanto in supposizione. X te ovviamente è un gioco per il fatto che in matematica la X significa anche per e spesso per abbreviare la utilizziamo. Ora la domanda è, ma se noi facciamo queste cose perché non possono farle anche loro? Però dobbiamo capire un attimo bene, sempre, che loro hanno una scrittura diversa dalla nostra. I giapponesi hanno l'alfabeto, quindi hanno dei caratteri come le nostre lettere che significano solo ed esclusivamente lettere, suoni fonetici e poi hanno i kanji che sono dei disegnini, questo più o meno lo si sa. Comunque io adesso abbasso la webcamera, inquadro qui e vi faccio vedere un attimino i due alfabeti che loro hanno. Questo qui è l'alfabeto tipico giapponese ed è l'iragana, hiragana. Come potete vedere ci sono non tutte le lettere, ad esempio ci manca la V di Verona, non c'è, c'è la W ma non c'è la V, ci manca anche la L di Livorno, ad esempio. Penso che si legga ma comunque nel caso poi la trovate in internet. Questo invece è il katakana, il katakana. La differenza tra i due alfabeti è che il katakana è molto più spigoloso, i caratteri sono più spigolosi. Perché è stato creato il katakana? Perché avere due alfabeti se in fondo l'alfabeto sono solo suoni fonetici? Allora questo parecchi lo sanno, l'iragana è utilizzato solo per le parole tipicamente giapponesi, il katakana per tradurre appunto quelle parole che non appartengono alla lingua giapponese, quindi con dei suoni in più, hanno altri suoni. Ma non solo, il fatto che il katakana sia più spigoloso spesso è un modo di dire. Io mi ricordo in Naruto che nel combattimento tra Kimimaro e Rock Lee, Kimimaro disse a Rock Lee tu sei spigoloso come il tuo nome. Ora immaginate di dover tradurre questa battuta in un anime che deve andare su Italia 1 ad esempio, a prescindere che uno sia d'accordo meno con l'anime, ma come traduttore devi tradurre questa battuta è impossibile perché Rock Lee, personaggio di Naruto, è l'unione di Rock, parola inglese, e Lee tipico cognome cinese. Due quindi nomi stranieri che vanno scritti in katakana, cioè l'alfabeto spigoloso. Quindi lui praticamente voleva dire il buon Rock Lee che il tuo nome va scritto in katakana, con questi caratteri spigolosi, e non in hiragana dove si vede che sono tutti più pucciosi e rotondi. Quindi automaticamente vuole dire sei spigoloso come il tuo nome che è scritto in katakana. Ad esempio come si fa a tradurre una roba del genere ragazzi? È impossibile no? Ecco, però piccolissima introduzione prima di partire, volevo anche farvi notare però una cosa. È vero che noi abbiamo le lettere dell'alfabeto, ma guardate che è altrettanto vero che il nostro 1 come numero indica principalmente il dito messo così che è l'1 no? Se io faccio il 2, scritto in questa maniera, sono due bastoncini, o il 3 scritto in questa maniera, questo è come lo scrivono anche i cinesi, il 2 lo fanno così, il 3 lo fanno così. Io vi posso soltanto dire che se vado veloce con la penna faccio 1 e 2, ma se voglio andare ancora più veloce inizio a non staccare la penna dal foglio e fare così, 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 così e pian piano uscirà il 2, il 3 è uguale. Nel momento in cui tu non stacchi la penna dal foglio, automaticamente crei, cioè così sono nati i nostri numeri, quindi non è che noi abbiamo delle robe tirate fuori a casa. E noterete che più vai veloce e più il tratto tenderà a, come dire, a diventare morbido. Perché ad esempio il 2, la parte di sotto è rigata, è diritta? Perché giustamente hai fatto la curvatura per raggiungere da qui a qui, fai la curvatura e poi dopo rimani diritto. Invece il 3 curva perché arrivato a quel punto ti fermi. Quindi quello che volevo dire in questa cosa è che in fondo non siamo così diversi. Ecco, ci teniamo a specificare questa cosa perché è particolare. Detto ciò, dove andremo a parare in questo video? Andremo a prendere le due lettere che compongono il nome di Im Sama, che sono la I e la M, vabbè adesso le vediamo, e una precitazione importante, i giapponesi utilizzano la vocale U in maniera particolare, cioè loro non hanno le consonanti da sole, tranne una che è la N di Napoli, dopodiché non hanno mai consonanti da sole. Allora come fanno a mettere insieme, che ne so, la M con la P? A parte che nella loro lingua questo non succede, ma se dovessi tradurre una parola straniera che fa impalare, che ne so, i momenti in mente impalare, una crisi di Vlad Tepesci momentanea, però io scrivo IMUP, cioè metto la MU, perché praticamente loro in questa maniera la U non la pronunciano mai, o comunque hanno una U pronunciata U, automaticamente diventa IMUP, no? Ad esempio, ecco, Grand Line, loro non hanno la G e la R di fila, loro fanno GU RAN, la N abbiamo detto che si può fare, quindi diventa GURANDO, GURANDO RAINO, cioè loro hanno queste caratteristiche, no? Quindi attenzione, quando uno dice il nome IMU, IMU come la tassa, io penso, ma penso, eh, sono una mia supposizione, che comunque quando la pronunceranno nell'anime sentiremo dire IMU SAMA, no IMU, SAMA con sta U pronunciatissima, sarà probabilmente IMU, IMU SAMA, IMU SAMA, O ANA NITENDAKA, no? Ad esempio, per dire una frase, probabilmente diranno IMU. Allora, vediamo quindi al video. Allora, come nasce l'idea del katakana? Dove dobbiamo prendere, sono stato intelligentissimo a scrivere, ovviamente, dietro al foglio, così adesso si legge peggio, comunque, dobbiamo prenderci innanzitutto la I di Imola, che è questa qua, non la trovavo, scusate, non trovavo la I, e mi ero un attimino perso. Allora, guardiamola bene, questa è la I, questo è il segno, il simbolo, l'ideogramma caratteristica, no, del primo nome di questo signore. E poi abbiamo bisogno di MU, vediamo se trovo MU, che io giustamente, niente che mi sono messo prima a cercare, eccola qua, è una specie di quattro, ok? Lo si vede cerchiato. Quindi sono questi due caratteri, I, MU. Ovviamente, come tutti i nomi, Oda ha utilizzato il katakana. Allora, dove dobbiamo andare oggi in questo video? Noi abbiamo, quindi, abbiamo detto che abbiamo I e abbiamo questa specie di quattro, che è MU. Questo è quello che voi troverete, trovereste se leggeste il manga in giapponese. Sono due caratteri distinti, quindi questo occupa uno spazio, diciamo, e questo occupa un altro spazio, e sono distinti. Ebbene, gioco vuole, ironia della sorte vuole, che, se io metto insieme questi due caratteri in uno soltanto, questo ovviamente, ragazzi, non è la scoperta del secolo, ma è una cosa che un giapponese noterebbe immediatamente, ottengo un unico kanji, che significa Buddha. ma dobbiamo capire bene qual è la differenza tra un kanji e le lettere dell'alfabeto. Vi faccio un esempio. Io vi dico maggiore e minore. Voi cosa immaginate se vi dico maggiore e minore? Provate a immaginare. Cosa può essere maggiore e minore? Anzi, no, facciamo così, ancora più bello, perché maggiore e minore sarebbe, alla fine, dal vostro punto, dal mio punto di vista, maggiore e minore sarebbe questo, alla fine, io ho disegnato questa cosa. Se ancora più fare, vi dico, meno maggiore, no? Meno e maggiore è una freccia. Ecco, più o meno, diciamo, è così, nel senso che sono delle semplici coincidenze, il simbolo di meno, il simbolo di maggiore, vi viene fuori una freccia. Allora, questa qui è soltanto una coincidenza, è una semplice coincidenza. Se volete, noi cerchiamo di capire perché è nata questa coincidenza. Questo kanji è composto da, i kanji abbiamo detto che sono di disegnino, ok? Questo kanji è composto da una prima parte che è identica alla lettera I, ma è solo una coincidenza, è solo una coincidenza. Questo kanji, questa prima parte, è identica alla I, ma in realtà è un radicale, cioè, è una parte contratta, è un disegno contratto di questo, che significa uomo. Ebbene, questo segno qui da solo lo scrivo così, uomo, ma se lo devo unire in un kanji composto, cioè un kanji che è formato da due piccoli disegni, allora lo trasformo in questa maniera, faccio una forma abbreviata. Adesso facciamo un esempio italiano per cercare di capirci. Mentre invece quest'altro ha un significato complicatissimo di cui parleremo dopo. Allora, vi faccio un esempio banale, e scrivo anche un po' più grande se non se vede. Facciamo finta che io sono europeo e voglio utilizzare il sistema dei giapponesi e voglio prendere un uomo e poi disegno, io devo stare molto attento quando disegno perché faccio letteralmente schifo, dovrebbero essere delle forbici, forse ce l'ho fatta, ok? Uomo, forbici. Questo è un kanji che significa uomo e questo è un kanji che significa forbici. Ovviamente non è che schivano così i cinesi uomo e forbici, però è un esempio. Mettiamo caso che voglio creare il verbo tagliare. Cosa farò? Dovrò mettere insieme questi due kanji in uno solo, cioè compattarli entrambi per creare un unico kanji con all'interno l'uomo e le forbici. Come faccio a fare questo? Allora, potrei fare così. Prendo e ridisegno tutto da capo, però diventa molto pesante, molto scocciante, allora utilizzo i radicali. Faccio ad esempio un simbolo così che significa uomo e diventi il radicale di uomo e con le forbici ne metto diciamo una forbice soltanto, non le scrivo entrambe. In questo modo io ho il radicale di forbice, il radicale di uomo messi insieme ottengo il verbo tagliare. Ora, io ho cercato di utilizzare diciamo un ragionamento all'europea per spiegare un meccanismo completamente cinese. Per arrivare a questo ci hanno messo anni loro perché esiste anche addirittura l'etimologia della scrittura cinese che sono dei cinesi che non solo conoscono quasi tutti i loro kanji ma addirittura si vanno a studiare persino l'origine cioè come scrivevano quelli prima per andare a vedere come poi è nato quel simbolo quindi ci sono voluti secoli per arrivare a questa roba e sia ben chiaro. Comunque funziona più o meno in questa maniera quindi abbiamo detto che ripilogando cosa importantissima da capire per parlare di In-sama dobbiamo capire che questo simbolo è sia semplicemente la lettera I dell'alfabeto ma al tempo stesso attenzione attenzione è anche il radicale di uomo quindi abbiamo un primo gioco di parole I lettera o anche radicale di uomo e ovviamente è anche il primo radicale di quello che è praticamente il simbolo di Buddha che io non so scrivere all'incontrario i kanji mi dispiace ma e qui noi dobbiamo arrivare ovviamente a questo e adesso invece arriviamo all'altro segno madonna quanto mi piace questo qui questo mi fa emozionare vi giuro è una roba che mi fa veramente emozionare allora adesso vi spiego perché questo si pronuncia abbiamo detto mu fa parte ovviamente dell'alfabeto giapponese si pronuncia mu allora come che cos'è innanzitutto il mu dobbiamo partire da questo particolare presupposto innanzitutto ci sono tanti modi per approcciare al mu adesso vi disegno tre kanji e vediamo se riuscite a cogliere un particolare il primo è questo voi e qui ci ho messo un segno e questo è il primo sono in realtà molto sinonimi diciamo così significano più o meno quasi tutti la stessa cosa però e poi disegno questo e poi ridisegno ancora un altro e vediamo se qualcuno di voi riuscirà a trovare un nesso tra questi tre si aprono le sfide allora questo è il primo questo è il secondo e questo è il terzo significano rispettivamente bestia demone e anche questa è una versione di una specie di demone bestia una roba così ora il segno di questi kanji per capire più o meno cosa rappresentano è molto semplice immaginatevi che esempio che questa x qui sia la testa il corpo e questa parte di sotto è quel simbolo mu che sta qui viene messo qui sotto stessa cosa qui il simbolo del mu è messo in questa zona e stessa cosa qui se notate questo qui in realtà è stato rimpicciolito e piazzato qui sotto tutti questi kanji hanno il simbolo del mu all'interno abbiamo detto che è una bestia un demone e così via ebbene in questo kanji se questa è la testa ad esempio questo è il corpo questo rappresenta la coda ebbene sì ma questa roba non è che la dico io sia ben chiaro questo simbolo che nell'alfabeto giapponese è soltanto sono soltanto le lettere di mu in realtà in molti kanji viene utilizzato come sinonimo di coda ok ora il personaggio di Im Sama paradossalmente Oda ha voluto fare questo giochetto ci ha messo una lunga coda diciamo così ci ha messo una lunga questa veste abbastanza lunga no? particolare io penso che alla fine Oda stia semplicemente giocando su molte cose comunque un'altra cosa sempre da dire sul mu c'è un kanji che è meraviglioso e qui arriviamo veramente qui iniziamo a sparare un po' di filosofia preparatevi questo kanji si pronuncia anche questo mu ma ha proprio un suo significato viene dal cinese ed è uno dei più importanti e profondi meccanismi della cultura cinese soprattutto della religione buddista il mu che cos'è il mu qui mi fermo un attimo sui kanji per parlare una specie di cosa filosofica il mu è il nulla il senza il vuoto quindi se io metto insieme quel primo radicale che è uomo e lo affianco alla parola mu che però mi rimanda al concetto buddista del mu tu dici vabbè come fai a pensare al buddismo metti insieme i e mu e ottieni la parola ottieni praticamente due lettere che messi insieme da milkanji di buddha quindi io penso a buddha al tempo stesso penso a mu e il mu mi fa tornare mi fa passare mi fa arrivare alla religione buddista a questo kanji che si pronuncia mu cosa significa questo il senza ora che cos'è è difficile avete mai sentito parlare ad esempio ad esempio Schopenhauer diceva che tutti noi siamo tristi diciamo così perché pensiamo sempre abbiamo sempre qualche volontà qualche capriccio vogliamo sempre qualcosa lui suggeriva come ultima soluzione l'ascesi cioè desideri di non avere più nulla ecco il vuoto assoluto come desiderio voi direte non pensare più a nulla voi direte vabbè che ci vuole basta che mi svegliamo la mattina la mia mente è piatta non è così semplice perché basta desiderare di andare in bagno a fare pipì o di voler mangiare o respirare o un po' di prurrito nell'occhio state già desiderando qualcosa il mu è la completa assenza di qualunque tipo di volontà pensiero turbamento paura ed è quindi non un qualcosa di negativo come dire sei scemo c'è il mu nella testa magari avesse il mu nella testa significa essere talmente superiore da aver raggiunto appunto questa ascesi ultima è roba da buddha ovviamente chi raggiunge questi livelli tocca i picchi di divinità potremmo dire quindi il mu è un obiettivo utopistico per un uomo ma non solo io provo un meccanismo che mi ha sempre fatto molto ridere mi piace tantissimo sapete che i circuiti elettrici le schede mappate hanno i chip che hanno il sistema binario 0 1 0 1 0 0 1 0 con tutte quelle robe lì ebbene quindi un chip può trasmettere o 0 o 1 o 0 o 1 ma se io stacco la corrente non trasmette più nulla non è più 0 né 1 è vuoto finché non rimetto la corrente quindi non è che è morto non è che l'ho preso l'ho distrutto con un martello vabbè grazie al cavolo un uomo lo ammazzi non pensa più ovvio invece no funziona ancora però tu stacchi la corrente in quel momento si svuota dopodiché riattacchi la corrente e riparte 0 1 ecco quel momento di vuoto è il mu no per dire e quindi chi raggiunge il mu ovviamente è una divinità è una persona o se non ha divinità è comunque un uomo molto vicino allo status di divinità una persona superiore ma andiamo ancora avanti perché con il mu c'è ancora tanto da dire non vi preoccupate allora in un altro un altro kanji che ci può tranquillamente portare verso il mu è un kanji a mio avviso diciamo questo è un po' particolare però innanzitutto ci mettiamo il radicale di uomo che ci sta sempre bene poi ci mettiamo questo e questo qui anche in questo caso è un'altra simpatica parola che in cinese si pronuncia si perché purtroppo è l'accento discendente questo significa somigliante ed è un altro kanji che secondo alcuni potrebbe essere l'antico padre diciamo di quello che poi ha portato il carattere mu cioè in altre parole se un giapponese si dovesse chiedere perché io scrivo mu Buddha in questa maniera potrebbe essere che questo kanji sia derivato da una diciamo una contrazione di questo kanji qui che è quello che utilizzavano i cinesi che significa somigliante non a caso nella filosofia buddista spesso il Buddha era chiamato l'uomo che somiglia ad un uomo l'uomo somigliante ad un uomo cioè sembra un uomo ma non lo è perché è un dio praticamente c'è questo meccanismo andiamo ancora avanti sempre col principio di mu c'è un'altra cosa meravigliosa questo si pronuncia proprio mu scritto in questa bizzarra maniera ed è un altro kanji lo cerchio se no si capisce è un altro kanji questo qui eccolo qui questo di sopra è un altro kanji che in questo caso significa proprio mu si legge mu e significa qualcuno io potrei mettere insieme il radicale di uomo unito a questo e otterrei praticamente un uomo che è qualcuno cioè qualcuno somigliante ad un uomo e stiamo sempre diciamo al punto di prima esempio in cinese questo kanji si utilizza per dire se io scrivo Stefano e poi metto questo mu Stefano mu significa un tizio di nome Stefano cioè uno di Stefano uno fra gli Stefani diciamo così ecco quindi è un kanji un po' particolare l'uomo con questo carattere vicino che si pronuncia mu significa appunto un uomo tra gli uomini uno che somiglia a un uomo è un po' praticamente quello che poi nella ragione cristiana spesso viene affiancato in Gesù Cristo quando si dice il figlio dell'uomo per dire un uomo che somiglia a un uomo ma non è un uomo perché è un dio quindi sono quei meccanismi lì vedete che bello tutti questi ragionamenti sul mu ma il migliore che ovviamente è una delle cose migliori ragazzi se le conserva alla fine questo è come i giapponesi scrivono buddismo buddha non buddismo ma buddha ma voi direte e come lo scrivono i cinesi eh beh ragazzi vabbè il radicale di uomo è identico va bene ma poi fanno una cosa meravigliosa a me viene da vengono le lacrime agli occhi quando racconto questa storia fanno prima questi due disegni queste due linee poi fanno così e fanno questo poi fanno così e così ed esce fuori uno stranissimo cerchiamolo sempre kanji uomo e vabbè uomo certo e poi questo coso strano vicino questo coso è composto da due kanji da due segni sovrapposi diciamo così questa specie di S o un 5 dalla vostra prospettiva non lo so comunque una linea spezzata e poi ci sono all'interno queste altre due linee ora che cosa rappresenta tutto ciò spero di non piangere perché a me sta roba mi emoziona lo Yin e lo Yang perché che io adoro lo dico sempre spesso cito lo Yin e lo Yang ma lo Yin e lo Yang è tutto la mentalità l'idea perché veramente c'è lo Yin e lo Yang è dietro questo principio adesso vediamo perché perché vedete siamo in mezzo allo Yin e lo Yang lo Yin e lo Yang diceva l'idiatore è che uno guarda una collina da una parte è illuminata dal sole dall'altra c'è l'ombra quello è Yin e Yang vedo una porta al di qua della porta è Yin al di là della porta è Yang ci fa entrare nell'idea che siamo sempre costantemente in mezzo a due forze che si mantengono in equilibrio il bene e il male l'ordine e il caos ma può anche essere io citavo l'altra volta nelle stelle la forza centripeta che ti attrae diciamo verso e quella centrifuga che ti respinge e quindi siamo in costante equilibrio dovremmo cambiare la nostra mentalità pensare che anche se io sto sul divano fermo e mi sento immobile non sto in equilibrio sto fermo in realtà ho una forza che mi vorrebbe far schizzare via dal pianeta anzi il pianeta stesso vorrebbe esplodere e c'è un'altra forza che invece mi tiene costretto al pianeta e io sto fermo vista da questa maniera significa che anche quando io mi sento calmo dovrei sentire uno che mi tira da una parte uno dall'altra ed è solo per quello che sto in equilibrio qualunque equilibrio non è più una calma ma è un'apparente calma perché sono in mezzo a due forze che mi attraggono e mi respingo voi dite ma perché tutto sto ragionamento da questo carattere la linea spezzata significa proprio significa nei kanji significa divisione taglio ok quest'altra delle due linee invece significa unione legame questo kanji non è stato creato a caso è proprio volontariamente l'unione di un principio di diciamo legame è un principio di spezzatura quindi l'uomo l'uomo i l'uomo questo carattere che è in genese poi sarebbe ren diciamo comunque è l'uomo che poi viene trasformato nel radicale questo qui che ironia della sorte guarda che coincidenza come il discorso del 4 di primo che coincidenza è uguale alla lettera d'alfabeto i eh vabbè non puoi fare niente unito ad un kanji che è unione e spezzatura quindi l'uomo che possiede il tutto praticamente i principi di distruzione i principi di creazione dio dell'antico testamento distrugge e crea a suo piacimento quindi stiamo raggiungendo degli apici altissimi con il buddha con questi principi e questo significa proprio buddha in cinese ma vi posso garantire che qualunque giapponese anche se buddha lo scrive così sa benissimo che i cinesi lo scrivono in quell'altra maniera lo sa come le nostre parole dice garage è una parola francese quindi gli italiani non sanno che significa se vabbò sti cazzi diciamo sempre garage sono proprio parole famosissime questi kanji famosissimi quindi allora riassumendo e poi arriviamo alle conclusioni con le teorie chi è imu? innanzitutto è un gioco di parole tra due kanji tra un kanji anzi che è l'unione di due lettere dell'alfabeto e vabbè la coincidenza i ed m sulla i si può soltanto dire che si fa un riferimento quindi alla lettera i ma in realtà è il radicale di uomo e questo i giapponesi lo sanno bene il mu è un principio invece è un altro tipo di kanji che ricorda come suono come suono ricorda uno dei principi fondamentali della religione buddista quindi il mu il vuoto l'assenza ma al tempo stesso ricorda anche vagamente il carattere che si utilizza nelle code quando si scrivono si disegnano i kanji di demoni e bestie come coda si utilizza proprio quel mu quella specie di quattro che somiglia vagamente guarda che coincidenza alla lettera dell'alfabeto katakana mu allora io volendo mettere insieme tutto questo dover creare uno che sembra un uomo sembra un uomo perché la religione buddista si parte dal presupposto che il buddha sembra un uomo come abbiamo detto qui sembra somiglia un uomo quindi io sto per svelare uno praticamente l'antagonista del manga io finora ho detto che Barbanera è il coprotagonista Kobe il coprotagonista qui abbiamo l'antagonista finalmente del manga però non perché l'antagonista lo faccio in due secondi ci devo riflettere e allora devo avere uno che somiglia ad un uomo all'interno i principi del buddismo perché sanno bene i cinesi che il buddha è colui che può creare e distruggere al tempo stesso gli posso fare anche una coda perché vaffanculo ci sta sempre bene e quindi il tutto con il gioco di parole di questo kanji che è l'unione di i e l'unione di mu che è questa roba qui questa specie di quattro che sta qui ora ovviamente diciamo ma possibile tutti questi ragionamenti io in realtà vi posso dire che qualunque giapponese nel momento in cui legge il manga si trova scritto i due caratteri che compongono il kanji di buddha staccati i ed m non è che ci mette molto a collegare qualunque giapponese fa sto collegamento ragazzi è troppo scontato è troppo scontato cioè come se io scrivessi ripeto questa lettera è per te metto la x a posto del te e uno dice è possibile che gli italiani riescono a pensare che x significa ma secondo te sono così deficiente che non lo capisco ecco ma cioè basta prendersi i tuoi caratteri allontanarli un attimo e leggi i ma loro lo sanno bene quindi qualunque giapponese da appena ha letto il nome dalla settimana scorsa ha pensato a queste cose poi possiamo andare oltre pensare che il mu ricorda questo ricorda il legame il buddismo è un uomo completo di tutto poi ci può stare la coda che ricorda che in vari canji quel carattere significa anche la coda ok ma questo è un altro discorso detto tutto ciò mettiamo questa roba nel principio base ok di questo manga allora in sama io lo posso disegnare con una specie di coda ci sta bene come che somiglia un uomo sicuramente con grandi poteri ma la cosa fondamentale da non dimenticare è che se parliamo di buddismo parliamo di una religione che crede in maniera assurda alla rinascita non alla reincarnazione dannazione cercate su google buddismo reincarnazione rinascita faccio un esempio vedrete che sono tutti che bacchettano no reincarnazione rinascita dov'è la differenza è una differenza molto sottile ma in realtà è anche abbastanza semplice la reincarnazione prevede che la stessa persona ritorna in un'altra vita ok la rinascita invece significa ripartire da capo loro chiamano diciamo una specie di bagaglio che ti porti dietro il deposito di coscienza lo chiamano comunque ad esempio il bruco che si trasforma in crisale e poi diventa farfalla tecnicamente non è che si reincarna semplicemente rinasce va ad uno stadio evolutivo superiore il karma il karma per il buddista rappresenta semplicemente questo vi è mai capitato di fare una buona azione ed essere felici no quello è il karma se tu nella tua vita non fa altro che accumulare quelle sensazioni di piacere perché nella tua vita sei stato mi sto tagliando la testa sei stato bravo succede che quando poi termini la tua vita rinasci non ti reincarni perché ti reincarni significa che riparti cioè significa che non puoi evolvere sei sempre quello invece tu sei un pokemon puoi evolvere dannazione puoi anche ritornare indietro sia ben chiaro se accumuli karma positivo rinasci in un livello superiore fino a raggiungere ovviamente il livello ultimo massimo imu praticamente ma al tempo stesso se accumuli karma negativo precipiti in livelli di vita in livelli di vita inferiori quindi rinasci con il tuo deposito di coscienza ma rinasci a livelli di vita inferiori chi è il ovviamente secondo i gorosei secondo tutti quelli che vedono in lui una divinità è l'uomo che si è rinato ecco lo stavo dicendo stavo sbagliando pure perché stavo pensando al dalai lama che rinasce quindi nello stadio evolutivo ultimo ecco il dalai lama come fanno a riconoscere chi è il buddha come fanno a riconoscere chi è il dalai lama eccetera che vabbè in quel caso si può anche dire reincarnazione comunque non è quello il problema è l'importante che poi le parole uno nel momento in cui le utilizza le utilizza sapendo quello che sta dicendo allora come fanno a riconoscere ci sono vari modi ad esempio loro credono nel deposito di coscienza quindi qualche ricordo i famosi déjà vu magari possono essere un segno addirittura vanno a guardare il precedente ad esempio quando è morto in quale direzione guardava addirittura credono anche in queste cose ad esempio col dalai lama avevano fatto che lo hanno portato in una stanza piena di scarpe e gli hanno chiesto di sceglierne una e quel bambino istintivamente ha preso esattamente quelle scarpe che erano quelle che utilizzava sempre il predecessore della dalai lama credono più o meno in queste cose fatte così ok che poi in realtà c'è una teatriba in corso perché il governo cinese ha detto ma quando mai in realtà siamo noi da anni che scegliamo chi è il dalai lama perché c'è un po' di discussione l'aveva detto un ministro cinese che è completamente atia quindi voleva anche un po' sputtanare questa religione ma lì sono problemi col tibet lasciamo stare però restando in tema one piece diciamo che probabilmente credono che questo im sama sia questo genere di persona una persona che sia rinata a livello ultimo dell'umanità e quindi può avere dentro di sé qualunque cosa ma soprattutto questo discorso qui può creare e distruggere può fare tutto quello che vuole perché è la persona che è rinata ma nell'introduzione vi parlavo infine di Roger perché ho detto 34 minuti ci sto perché ho detto che Roger in realtà quella frase può essere vista da un altro punto di vista molto bello ovviamente molto bello compare io non morirò detta così dice vabbè ovvio perché vabbè a parte a chi crede la rincarnazione e robe così uno stava dicendo vabbè allora perché Roger è rinato il Rufy eccetera eccetera sì certamente il fatto che Rufy vada a dire le stesse cose di Roger fa capire che Shanks e Relic credono nell'ideale di rinascita e Rufy probabilmente è l'erede di Roger ok perché stanno aspettando uno che dimostri di dire quelle cose e non escluso che dall'altra parte sull'altro trono che è quello lì di Marijoa i Gorosei abbiano fatto la stessa cosa con Im Sama ma ormai abbiamo capito che il collegamento tra protagonista principale che è comunque Rufy e Im che è l'antagonista c'è a partire dai cappelli di paia no quindi è ovvio che probabilmente i Gorosei hanno scelto Im in base a quei segnali gli stessi che Shanks e Relic e Krokus stanno vedendo in Rufy e quindi poi alla fine questi due sono obbligati ad incontrarsi non dico scontrarsi ad incontrarsi ma soprattutto però c'è un problema se tu nella tua vita non hai raggiunto il massimo del karma purtroppo sei costretto a dire io non morirò perché il Buddha è l'unico che è morto perché è morto perché il suo karma ha raggiunto un livello talmente alto ma talmente alto che non ha avuto più bisogno di rinascere ha raggiunto l'apice quando raggiungi l'apice che è il Nirvana automaticamente il tuo corpo ti lascia andare e ti fa ricongiungere al flusso universale proprio al flusso dell'universo quindi è finito cioè proprio hai raggiunto veramente la divinazione quindi dire una frase come io non morirò vedete che roba quando uno guarda poi le cose dall'altro punto di vista oltre a essere una frase molto figa molto bella eccetera ma può significare io non sono ancora pronto per andar via da qui non ho ancora raggiunto il Nirvana devo ancora ritornare in una rinascita perché non ho ancora finito quindi Roger da figo della madonna perché ha capito tutto eccetera potrebbe essere visto come uno sofferente perché ha capito che gli manca ancora molto per raggiungere certi livelli e ha bisogno di una nuova rinascita che a questo punto qui mi sembra ovvio sia Rufi se voi volete credere che One Piece sia un manga molto semplice e quindi Im Sama è il cazzuto cattivo che vuole controllare il mondo perché io voglio il potere tutto per me siete liberi di crederlo se volete pensare che vi siano questi principi dietro One Piece e quindi quando i due si incontreranno dovranno per forza regolarsi perché sono due persone collegate ovviamente è un'altra visione di One Piece che è quella secondo me più in sintonia con tutte le tematiche complesse dette finora attenti a un fatto Im Oda ce lo potrebbe far piacere quindi da una persona presentata con quest'occhio vagamente assassino che si vede alla fine come dire adesso io parlo e voi dovete ammazzare perché io comando e voi dovete obbedire non è escluso che possa farlo apparire come una persona malata una persona sofferente una persona debole magari una donna da quel punto di vista cioè come l'ultimo guerriero di Nando che era Giulio una persona da difendere una persona che tu la guardi dobbiamo ammazzare Im ah questo è Im wow e magari trovi una persona di una certa bontà ovviamente o anche potrebbe essere visto come una specie di dittatore ma che comunque si avvicini al personaggio dell'architetto di Matrix quindi una persona molto acculturata una persona che poi mette sempre in dubbio e così via perché è una persona che lega e distrugge questo è Im secondo me tutti questi ragionamenti così strani un giapponese ripeto li ha fraffatti in un attimo perché è la loro lingua noi dobbiamo lavorarci su chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui mi complimento vi chiedo scusa per la mia pessima scrittura non ho fatto ovviamente tante magie tante robe perché potevo fare questo è il kanji di questo è il kanji e magari non le so cioè mi rompo le balle scusate ma mi scorcio sono pure i mondiali voglio vedermi qualche partita che bel finale che bel finale aulico detto questo vi saluto mi raccomando fate i bravi dopo il video di ieri sapete che significa e noi ci vediamo prossimamente ciao